Gassi in arrivo alla nuova zona sicura Ok C'era scritto 430 metri Madre di dio Hai già trovato l'auto res Ma chi è messa a di Oh vieni qui Mamma mia madre di dio Vieni qui vieni qui patatino Oh ma sta vita Ma fare le feed su Warzone cos'è Perché sto mirando sempre alla testa Ma che c***o di problemi ho Non so cosa dirvi Non so cosa dirvi Non so cosa dirvi Un 96% di accuracy Lo vedete da tutti gli streamer Col cecchino Boh non lo so Nice Nice Eh fra E mi metti la maschera di continuo Che rottura di c***o Oh for coat Ma 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 Signori che devo far Che devo far Che devo far Ditemelo voi Eh faccio schifo raga Faccio veramente schifo Faccio veramente schifo Ok Ce l'ha scritto 430 metri Sai cosa? Sai cosa? Va bene Succede raga Succede Che posso farci? Ma fra Ma che Che problemi c'ho? Eh vabbè Succede fra Avete capito Come stavano giocando Questi due? Ci sono due persone Uno sopra l'altro No vecchio però No eh Eh no Eh no E devo perdere il game Così Sapete cos'è intelligente? Eh cioè Nel senso Puoi sapere cos'è intelligente? Ok sotto di me Ma le hai anche fatte esplodere Ma che cazzo amico Mi ha fatto il cuorizzino Patatino Che topo No fra mi sento tipo troppo in colpa adesso Eh l'ha visto l'ha visto l'ho visto Che c***o ho visto? Ma che problemi c'ho? Ha messo giù il joystick L'ha messo piano piano Ha fatto E l'ha appoggiato giù Brava perché non muore? Ma vedi che se devo fare il marker Madre Vecchio che c***o di arma è? Brava sta roba non ha senso Che c***o di arma? Vecchio che c***o di arma è? Chi fa così tanto male? Oh sì Patatino No la macchina no Mamma mia Dai vecchio Madre di Dio Quanto tesa Quanto tesa Oh grazie patato Quanto tesa Grazie a tutti